Dottor Macello Montorsi, omeopata, può parlarci del programma dell'Associazione per vincere domani a supporto dei pazienti oncologici che è partito da novembre del 2011? Ci può dare dei dettagli sul programma e raccontarci un po' l'essenza? Certo, mi piacerebbe raccontare innanzitutto come è cominciato questo rapporto, questa collaborazione. È cominciata molto tempo fa, ci sono voluti 12 anni per realizzare praticamente questa collaborazione. Era il gennaio del 2000 quando Tiziano Orsini, che è stata l'anima di questa associazione fino alla sua scomparsa, avvenuta un paio d'anni fa, mi ha contattato chiedendomi di interessarmi, di partecipare con lei a questa idea, a questo progetto, di offrire ai pazienti che accedevano al Deospital Oncologico dell'ospedale di Sassuolo, che l'associazione ha finanziato a suo tempo, di proporre a queste persone un programma di cure omeopatiche di accompagnamento rispetto al loro percorso di cure tradizionali, con lo scopo, che poi è rimasto quello, di migliorare la qualità della vita, di ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti chemio e radioterapici e quindi di coadiuvare quelli che erano i trattamenti tradizionali. Ci siamo attivati, diciamo che questo progetto ha avuto diverse fasi, sembrava dovesse andare in porto diversi anni fa, poi è cambiato l'ospedale perché adesso c'è un nuovo ospedale, cambiano le figure di riferimento a livello di azienda sanitaria e così via e ospedaliera, per cui non è stato possibile arrivare a questo. Sono stato di nuovo contattato dopo la scomparsa di Tiziano Orsini dal figlio, il quale trovando gli appunti in cui la madre aveva riassunto tutto questo tipo di iter, disse ma come? Ora dobbiamo realizzare e devo ringraziare Matteo Rovatti di aver ripreso questo filone che io avevo un pochino dato per perso perché non si era poi di fatto realizzato nulla. Nel 2011 abbiamo messo nero su bianco, di fatto io da quel momento sono un consulente di riferimento per la terapia omeopatica, io sono medico omeopata quindi di questo mi occupo e ho avuto modo quindi di, come dire, entrare anche più praticamente nell'esperienza di una terapia integrativa, cosa che prima era più a livello ideale ma poi concretamente non si era realizzata. Il discorso della terapia integrativa rispetto alle cure oncologiche è un problema molto vasto, nel senso che c'è un largo utilizzo da parte della popolazione di terapie integrative rispetto alle terapie oncologiche tradizionali e uno dei grossi problemi di questa integrazione è che spesso questo approccio altro non viene comunicato al medico specialista, all'oncologo di riferimento, rimane una cosa fatta un po' di nascosto, questo per paura poi di dispiacere o di ricevere, come dire, in un qualche modo sgridate o qualsiasi altro tipo di ritorsione a livello relazionale dal proprio medico ufficiale, questo che è in camicia in ospedale, quello delegato alla cura della malattia. Questo comporta due tipi di rischi, il primo e secondo me il più grave è quello di alterare profondamente la relazione tra medico e paziente con, diciamo, l'introduzione di un elemento di disturbo che diventa una figura tutto sommato un po' nell'ombra che può appunto inquinare questa relazione. Secondo aspetto pure importante, ci sono presidi naturali di diverso tipo con una dimostrata interazione con i farmaci chemioterapici e se l'oncologo è a conoscenza del fatto che il paziente usa un certo prodotto può dirgli guarda qui c'è un problema, se non è a conoscenza nessuno lo dice al paziente il quale magari si vede una terapia che funziona meno o si vede effetti collaterali in aggiunta rispetto invece alla sua prerogativa magari di averne di meno. Uno dei motivi per cui mi è piaciuta molto l'idea di integrare è che tutto questo era nei nostri progetti e poi di fatto si è realizzato esattamente in questo modo, era di interagire in piena collaborazione con il medico oncologo, il quale molte volte è lui stesso l'inviante del paziente. Adesso su questo stiamo cercando di lavorare e di collaborare perché è chiaro che ci sono diversi modi di vedere e di approcciare questo tipo di malattie. Io come medico meopato ho una visione che per certi aspetti può essere profondamente discordante rispetto al modo di vedere questo tipo di malato e di malattia che può avere l'oncologo ospedaliero. Quello che stiamo cercando di attuare diciamo in questa fase ancora iniziale di collaborazione è proprio un sistema, un modo sistematico di collaborare e di poter scambiarci saperi diversi in modo da interagire nell'interesse del paziente in modo che il paziente possa essere sempre al centro dell'attenzione anche di figure che lavorano comunque in equip anche se per ora a un livello ancora iniziale, ancora embrionale. Molte idee devono ancora essere sviluppate e articolate ma l'intenzione fondamentalmente di questo progetto è questa. Attualmente funziona così. I pazienti che accedono al degli ospital oncologico vengono informati o da personale volontario dell'associazione per vincere domani o in certi casi, quando ritenuto opportuno dal medico oncologo a cui si rivolgono, della possibilità di questo percorso che affianca le terapie, a volte è anche successivo alle terapie stesse, nel senso che il paziente che viene trattato con la chemioterapia per un certo periodo e poi semplicemente seguito con controlli periodici può avvalersi comunque per un certo tempo anche di cure omeopatiche per tutta una serie di questioni. Ci sono tantissime possibilità di applicazione. Si possono fare molti esempi. Uno che mi viene in mente perché è molto frequente è per esempio nel caso del tumore mammario, dopo l'intervento chirurgico o anche l'eventuale chemioterapia, certi tipi di tumori che sono sensibili agli estrogeni vengono trattati con farmaci che inibiscono la produzione di estrogeni da parte dell'ovaio. Questo induce una menopausa di tipo chimico. Questa menopausa conduce a tutta una serie di sintomi e problematiche di salute che possono essere trattate con cure naturali e con l'omeopatia con una certa possibilità di successo. Ci sono tanti lavori in letteratura che riportano casistiche interessanti su questa problematica. Qui abbiamo pazienti quindi che fanno trattamenti non più ospedalieri ma che poi vengono seguiti magari soltanto con controlli periodici ma che possono avvalersi di questo tipo di terapie che per il paziente sono assolutamente gratuite. Gratuite da un punto di vista delle prestazioni mediche. Poi il paziente deve affrontare una spesa relativamente bassa per il costo dei farmaci perché nonostante quello che si crede o si sente dire in giro l'omeopatia classica, quella che io chiamerei semplicemente omeopatia, che storicamente segue certi tipi di canoni, è una terapia a costo estremamente basso perché basata sull'uso di una sostanza medicamentosa per volta in piccolissime dosi non comporta né associazioni strabilianti di 10.000 sostanze naturali nei cose particolarmente difficoltose da un punto di vista proprio di somministrazione per cui è qualcosa veramente di semplice nel vero senso della parola per il paziente seguire e aderire a questo percorso. Questo è un po' in sintesi il tipo di rapporto che attualmente è in essere con l'associazione. Mi interessava soprattutto il discorso della ricerca di un linguaggio comune con la medicina tradizionale. Le ha parlato di intervento assolutamente in collaborazione col medico curante, però mi sembra che ci sia proprio un'intenzione di ritrovarsi in un linguaggio comune. Questo mi interessava un po' approfondirlo, se è possibile. Sì, questo è per me un, come dire, un cardine a cui mi ispiro nel cercare di approcciare questo tipo di collaborazione. Questo perché credo fondamentalmente che non possa esistere, non possa chiamarsi collaborazione il vedere lo stesso paziente da punti di vista incompatibili e semplicemente sommando interventi diversi. Io credo che questo non sia, magari può rivelarsi in certi casi anche utile, ma credo che non si possa chiamare terapia integrata. Penso che il concetto di integrazione implichi il fatto che a integrarsi siano prima del paziente a seguire cure integrate debbano essere gli operatori sanitari, a essere tra di loro in qualche modo integrati. Questo può avvenire semplicemente non certo arruolando in modo fideistico un medico tradizionale alla dottrina omeopatica o alla Iurveda o qualsiasi altra branca di medicina che da noi è alternativa. Può avvenire semplicemente cercando di venirsi incontro, andando ad aprire un pochino quello che è il proprio convincimento in termini di salute, cercando anche di vedere cosa ci può essere, che spazio ci può essere per interagire. Vi spiego meglio. Nel caso che abbiamo visto prima, parlando del tumore al seno, è evidente che il problema esiste ed è soprattutto evidente una cosa, che queste pazienti non possono essere trattate con ormoni, come succede nelle sindrome menopausali, succede naturalmente secondo una certa scuola, e che quindi le armi di tipo chimico in questo caso trovano una, come dire, una controindicazione assoluta proprio nella malattia di base. Ora, mi rifaccio alla letteratura, siccome c'è un'ampia evidenza di tante, non parlo solo dell'omeopatia, ma anche di fitoterapia o di altre tecniche naturali, c'è un'ampia evidenza di effetti positivi sulla sindrome menopausale in queste pazienti, basta che il medico oncologo apra la sua mente rispetto alla possibilità di cure altre, tra virgolette, perché possiamo collaborare, perché possiamo confrontarci su questo tipo di pazienti. Altro esempio importante riguarda quella che da pochi anni viene riconosciuta come un'entità, come una malattia sestante, che è la cosiddetta fatigue, che è una sindrome che colpisce i pazienti con neoplasie avanzate, dove compare un quadro di intossicazione cronica, stanchezza, tanti tipi di difficoltà a livello di tanti organi apparati, che sicuramente viene aggravato dalle chemioterapie, perché hanno un carico tossico importante. Allora, è evidente che questo tipo di effetti, questo tipo di sindrome, non trova una sua spiegazione soltanto nella presenza del tumore in quanto tale. È una problematica che riguarda tutto l'organismo nel suo complesso, sulla cui causa, sul cui modo di formarsi di questa problematica, non c'è ancora una conoscenza precisa. Tuttavia ci sono tanti lavori che fanno pensare a un disturbo che si localizza a livello proprio cellulare, dove il metabolismo della singola cellula, a causa della malattia e a volte anche a causa delle cure, diciamo, intossicanti che sono comunque necessarie, si aggrava e che genera uno stato di malessere che condiziona pesantemente la qualità della vita di questi pazienti. Anche qui andiamo su un terreno dove ci sono delle prove oggettive dell'esistenza di questo quadro e altrettanto oggettive sono le prove dell'utilità di terapie disintossicanti, ancora una volta necessariamente naturali, perché se aggiungiamo a un carico chimico, altro carico chimico, chiaramente andiamo un po' contro quello che è la possibilità di liberare la cellula di tutta una sorta di intossicazione, no? Quindi anche lì si tratta semplicemente da un lato, diciamo, da parte mia di scendere un po' dall'idea che l'omeopatia come disciplina che cura la totalità del malato, secondo certi canoni debba essere applicata integralmente, perché anche lì bisogna scendere un po' a qualche compromesso in questi casi. Dall'altra parte, da parte del medico tradizionale, immagino che lo stesso tipo di attenzione possa poi portare a incontrarsi su un dato molto reale, molto concreto, che è quello dell'esistenza di sindromi, che sul piano biologico hanno un riscontro molto chiaro, molto oggettivo. Quindi lasciamo stare qualsiasi tipo di discorso teorico sul perché, sul per come si arriva a una certa condizione di malattia. Quella condizione di malattia di per sé produce effetti che sono documentati e la cui origine è verosimilmente nella risposta che ha l'organismo a questa malattia. Immaginiamo il tumore come un parassita. Il nostro organismo, di fronte a questo parassita, soffre. Su questa sofferenza possiamo agire cercando di creare la migliore reazione possibile a uno stato, diciamo, di parassitosi che non possiamo risolvere se non con il chemioterapico o, ancora meglio, l'intervento chirurgico o schemi di chemio radioterapia associati, eccetera, eccetera, ma di quelli poi il chemioterapista si occuperà. Quindi spostiamo l'attenzione dalla malattia, nel senso di gruppo di cellule malate, per guardare più in generale quell'organismo e a come reagisce a questa malattia lavorando su quello. In questo senso, secondo me, ci può trovare un terreno comune su cui interagire è un sapere comune, perché questi dati fanno parte di un patrimonio culturale che non è esclusivo di qualche esotica ricerca o di qualche cervellotica applicazione di chissà quale metodo. Sono dati di letteratura scientifica assolutamente, come dire, accademici, se vogliamo usare questo termine. Quindi si tratta semplicemente, secondo me, di guardare questa cosa. Purtroppo, devo dire che adesso le cose sono molto migliorate, ma l'attenzione per queste malattie ha spesso distolto la classe medica dall'attenzione per il malato e quindi l'accanimento, fra virgolette, alla guarire, all'ottenere un certo tipo di sopravvivenza, a ridurre una massa di un tumore solido, spesso è stato, come dire, enfatizzato rispetto poi al considerare come stava la persona che non è solo il portatore di questa malattia, ma è, come dire, è l'organismo all'interno del quale questa malattia sia sviluppata e ha una sua storia, un suo divenire. E mi sembra ben più importante, come dire, il sistema complessivo rispetto alla singola parte malata, non solo a livello logico, ma anche a livello pratico, perché, come dire, ottenere un risultato su una parte non garantisce il benessere complessivo del tutto. Questo anche soltanto a livello biologico. Grazie a tutti.